In questa mia rubrica cercherò di analizzare alcune parole che in psicologia sono molto molto usate, potremmo quasi dire che in qualche modo vanno di moda. Bene, sono talmente usate dagli psicologi che queste parole sono entrate nel nostro linguaggio comune. Inizierei subito con una che in questo periodo è decisamente usata o meglio anche abusata. La parola è la parola resilienza e insieme a lei ne abbiamo un'altra che piace veramente tantissimo. Questa parola è adattamento, quindi resilienza e adattamento. A me non sono mai piaciute specialmente nella accezione iperpositiva di questo termine, anzi di questi termini. La parola resilienza è una parola derivata in modo particolare dallo studio dei materiali e anche dall'ingegneria e riguarda proprio la capacità di un materiale di ritornare allo stato precedente se sottoposto a un forte stress. Inoltre insieme a questa parola abbiamo la parola adattamento. Adattamento è una parola che Darwin ha utilizzato tantissimo ed è la capacità appunto degli esseri viventi di adattarsi proprio agli stimoli esterni, quindi di cambiare, di evolversi, di trovare delle modalità magari alternative per la propria sopravvivenza rispetto appunto a quelle che avevano precedentemente. Ebbene, queste parole sono particolarmente usate, poi specialmente adesso che ci hanno costretto a cambiare drasticamente le nostre abitudini di vita a causa delle prescrizioni sanitarie che i governi ci hanno imposto un po' in tutto il mondo e in particolare in maniera molto rigida in Italia. Ebbene, a me non piace l'accezione incredibilmente positiva che si dà a queste accezioni, a queste due parole diciamo. E in modo particolare inizierei con la parola adattamento. Vedete, chi parla di adattamento umano relativo all'essere umano come qualcosa di estremamente positivo, beh forse non ha letto bene Darwin, perché già Darwin appunto, padre della teoria evoluzionistica che ci spiegava come le specie sono adattate e evolute nel corso del tempo, bene già Darwin metteva un po' in un altro piano l'essere umano come un animale che aveva la capacità non solo di adattarsi all'ambiente ma che la sua prerogativa era proprio quella che faceva all'inverso, cioè riusciva a piegare l'ambiente a se stesso, cioè era l'ambiente che si adattava all'uomo e non il contrario. Quindi l'essere umano per essere pienamente tale e non essere un semplice animale deve svolgere la sua prerogativa umana, cioè quella di far sì che l'ambiente si adatti alle sue necessità e per fare questo abbiamo infatti sviluppato una scatola cranica e un cervello estremamente grande rispetto agli altri animali che ci consente capacità di memoria, capacità linguistiche, capacità creative infinitamente elevate. Bene, quindi adattarsi non è sempre positivo. Da una parte è giusto, no? Saper essere elastici ma dall'altra non è così buono. Un eccesso di adattamento, infatti, ce lo dobbiamo ricordare, noi lo troviamo spesso in quelle situazioni traumatiche, negli abusi fisici, negli abusi psicologici, no? Quello che avviene un po' nella sindrome di Stoccolma. Nella sindrome di Stoccolma la vittima si adatta talmente tanto al suo carnefice, tanto da innamorarsene e giustificare il suo comportamento violento nei suoi confronti. Ecco, questo è proprio un esempio di iperadattamento, no? Una situazione estremamente stressante. E poi inoltre troviamo l'adattamento estremo, no? E quindi l'eccesso di adattamento anche nelle situazioni dove praticamente tutti i propri diritti acquisiti vengono, i propri diritti naturali potremmo anche dire i diritti di una persona, vengono costantemente distrutti, superati, comunque non tenuti in considerazione. Bene, quindi dobbiamo stare molto attenti sia noi psicologi che noi comuni cittadini ad utilizzare la parola resilienza e la parola adattamento in un'accezione fortemente positiva, perché appunto l'essere umano è quell'animale che non è così resiliente, che non è così adattabile e deve proprio la sua forza a questa caratteristica. Un caro saluto a tutti!